Domenica 4 dicembre alle ore 16 con partenza da Piazza Vittorio Veneta a Gioio Saioni abbiamo l'orgoglio e il piacere di promuovere una grande iniziativa solidale che vede protagonisti i 13 disabili del Centro Neurologico di Locri. Questa iniziativa dall'assoluto valore morale, sociale e solidale è stata voluta da un gruppo di associazioni pro disabili del Centro Neurologico. Questa è un'iniziativa come dicevo dall'assoluto valore morale perché lo scopo è quello di realizzare un frutteto e un campo di bocce. Perché questa iniziativa ha un grande valore sociale e morale principalmente? Proprio perché la volontà è quella di poter restituire a questi pazienti che sono ospiti del Centro Neurologico dei momenti anche di assoluta normalità. Un interesse, uno scopo quindi quello di potersi occupare di un frutteto ma quello di vivere dei momenti di serenità, di tranquillità, dell'assoluta normalità delle cose che si possono fare. Quindi invitiamo davvero tutti quanti perché ciascuno di noi ha il dovere di contribuire a un momento di normalità che può restituire a questi pazienti veramente un grande supporto. Può restituire a queste persone anche un momento di dignità che è quello che serve più di qualunque altra cura. Per cui l'invito è quello di partecipare tutti quanti perché ciascuno di noi ha il dovere di fare un piccolo passo per ottenere anche un grande risultato. Tutti insieme si può fare tanto. Quindi vi aspetto tutti quanti domenica 4 dicembre alle ore 16 in Piazza Vittorio Veneto. Quindi ringraziamo tutte le associazioni che si muovono sempre per offrire supporto ed aiuto al centro neurologico di Locri. Ed è tornato il Fitti Christmas. Ormai dopo la pandemia abbiamo ripreso a fare ogni attività che facevamo prima. Quello che più mi piace dire è comunicare che sicuramente camminare fa bene non solo a se stesse ma anche agli altri. E con questo spirito quest'anno si pensa di fare un circuito di Fitti Christmas, un tour del Fitti Christmas. Proprio per dare la possibilità a tutti di poter fare attività fisica ma nello stesso tempo essere disponibili a prestare aiuto anche agli altri. E questo è il nostro modo di pensare, il nostro modo di intendere lo sport. Cominciamo con questa data. Il 4 dicembre a Gioiosa Ionica ci sarà una grandissima manifestazione, una camminata, il Fitti Walking solidale a favore del centro neurologico. ASD Calabria Fitti Walking ha sempre stato a fianco in particolare delle persone con disabilità. Ma pensiamo che il centro neurologico della nostra zona sia necessario per il centro neurologico attivarsi nelle funzioni, nelle capacità, nelle possibilità che può avere per dare sostegno alle persone che hanno difficoltà. E questo è il nostro spirito. Quindi io già da oggi invito tutti quanti per il 4 dicembre nel bellissimo panorama di Gioiosa Ionica, nel bellissimo centro storico di Gioiosa Ionica, con i cappellini luminosi, ritorno al Fitti Christmas partendo da Gioiosa Ionica.